Buongiorno notizia. 9.28 ancora in studio, ritorniamo per parlare di calcio con il nostro amico mister Melo Russo. Abbiamo già approfondito il risultato del Catania all'1-1 con il Lecce, adesso abbiamo anche anticipato qualche altro risultato. Parliamo del derby Melo, anche se già abbiamo detto Trapani, deludente, quindi vittoria meritata per quanto riguarda la Leonzio. Senza togliere i meriti della vittoria della Leonzio perché ha meritato, aveva avuto anche una palla importantissima prima di questo gol con il nuovo centramanti che hanno preso e che meritava di segnare. La questione è che nella globalità della gara a me non è piaciuto il Trapani perché non riusciva a fare due passaggi di seguito. Questo forse perché era pressato molto da Leonzio e che poi, un po' a sorpresa, l'uomo più importante, a mio giudizio, che c'era in campo, Reginaldo, è stato sostituito. Mi incuriosisce perché vorrei leggerlo se sei infortunato perché è stato sostituito e ripeto che era l'uomo più bravo e più in forma che c'era il Trapani. Quindi ha fatto sicuramente un favore alla Leonzio dove dopo un paio di minuti dice perché ha tolto la gara. Ma l'uomo che dava la sensazione che poteva fare qualcosina in più degli altri è stato sostituito e poi, ripeto, la Leonzio ha segnato un gol meritatissimo e ha vinto. Ma la delusione, ripeto, sta nel fatto che io avevo detto da questi studi tantissime volte che il Trapani era fra quelli che doveva vincere il campione assieme al Catania e a Lecce. Visto ieri, non merita nemmeno il terzo posto. Ma ti volevo chiedere appunto questo. Trapani che è al terzo posto, rimane al terzo posto nonostante la sconfitta, però abbandona i sogni di agganciare. Secondo me, a parte che abbandona, riesce a... penso che giocando come ha giocato ieri perderà anche il terzo posto perché ci sono delle squadre che stanno rinvenendo. E una di queste è il Matera. Non so cosa ha fatto ieri. Il Matera ha perso a Cosenza. Ha perso. Ecco, è Cosenza, stavo dicendo. Cosenza e Matera sono delle due squadre che potrebbero insidiare anche il terzo posto perché il Siracusa sta mollando. Estranamente sta mollando a alte e bassi che in questa categoria quello che prevale è la continuità. Vedo il Lecce che non ha perso, ha perso solo una gara contro il Catania. Anche il Catania si trova a quattro punti meno pur avendo fatto delle grandissime prestazioni fuori casa. Questo è un campionato che se tu non hai continuità riesci a non fare cose alla grande. E dicevamo appunto che non è andata bene alle altre siciliane perché il Siracusa ha perso addirittura... Perso in casa. Perso in casa. Una squadra che io quando l'ho vista giocare ho detto che è una squadetta, rende eppure sta sorprendendo tutti. Fa dei risultati importanti. Quello che si è ripreso è un po' perché tu ti puoi chiedere perché me lo dici? Perché è il Monopolo. Il Monopolo dopo 7-8 sconfitte di seguito, da questi studi era partito un messaggio dove ho detto quando ero in testa che era una squadra che si poteva salvare. Lo dico per il Monopolo che ha due vittorie di seguito, uno dopo l'altro perché ha cambiato il tecnico. Il tecnico che è subentrato si chiama Scienza, Scienza che è un giocatore che ho avuto io. Lo ricordo con molto affetto e sono contentissimo che sta facendo dei risultati importanti. E' coinciso con una vittoria, la prima. Stranamente c'è un quesito. Lui era nella mia formazione al momento in cui io guidavo il Catania e io ho esordito con un gollo su rigore al novantesimo contro il Cagliari. E lui ha esordito con un rigore al novantesimo vincendo e battendo la squadra all'esordio con il Monopoli. Quindi ha fatti ricorsi storici. E tra l'altro Monopoli che ha avuto la meglio sull'Akragas. Quindi l'Akragas che è ormai l'ultima in classifica. Due vittorie ha fatto. La seconda partita che fa Scienza come tecnico ha portato due vittorie dopo 6-7 sconfitte di seguito. Quindi porta bene anche il cambio a volte d'allenatore. L'Akragas secondo te è destinato alla retrocessione? 10 punti appena in classifica. L'Akragas ieri era riuscito a rimontare un paio di volte. L'Akragas a prescindere dell'organico che non è così scadente per come la classifica dimostra. L'Akragas ha dei problemi di società. L'Akragas ha dei problemi grossissimi. Per quanto riguarda l'organizzazione societaria c'è il vecchio presidente che conosco personalmente. Persona distinta, appassionata di calcio che non ce la fa. Non ce la fa, sta cercando di passare la mano ma nessuno si prende questa società. Non so perché, che poi è una società importante, un centro importante dove fa da tanti anni il calcio una società storica. Continueremo a parlare di calcio e scenderemo di categoria con il nostro Melo Russo. Restate con noi.